Tutte le notizie anime e manga della settimana e partiamo dall'anime news. Le notizie più interessanti della settimana sono principalmente due e riguardano due film che arriveranno nei cinema italiani, due film anime chiaramente. La cosa molto strana però è che si tratta di due film che nessuno di noi si aspettava che avrebbero portato al cinema. In effetti però se ci pensate ultimamente hanno confermato diversi film che arriveranno appunto nei nostri cinema, tra cui il film di Spy Family che arriverà fra pochissimo o addirittura delle versioni rimasterizzate di film anime di tanti anni fa come ad esempio Perfect Blue che arriverà più o meno insieme a Spy Family. Ebbene per la gioia di tutti noi sappiate che il film di Aikyu The Dumpster Battle, il primo dei due film che andranno a concludere definitivamente l'opera di Aikyu in versione anime, sarà trasmesso nei cinema italiani a partire dal 30 maggio. Ci è stato detto che arriverà sottotitolato in italiano quindi in lingua originale però pare che arriverà anche doppiato. Quindi ci dovrebbe essere pure la possibilità di scegliere, insomma meglio di così non si può. In tutto ciò quello che mi ha sorpreso ancora di più è che poi subito dopo Aikyu, anche se non ci hanno ancora detto il mese di uscita preciso, arriverà pure il film di Blue Lock, Episode of Nagi nei cinema italiani. E questa pure è un'altra notizia che mi ha spezzato. Si tratta di un film prequel della serie che non mi pare fosse chissà quanto atteso in Italia rispetto alla seconda stagione, eppure arriveranno i cinema. Tra l'altro questo film arriverà proprio il 19 aprile, quindi questa settimana, nei cinema giapponesi ed è uscito anche un altro trailer. Il 5 maggio, in occasione del compleanno di Luffy e del 25esimo anniversario dell'anime di One Piece, si terranno vari eventi speciali in tutto il mondo, fra cui Milano. Finalmente anche un po' l'Italia viene considerata. Dovrebbero, ripeto, dovrebbero esserci altre cose, però per il momento sappiamo solo che dal 5 al 19 maggio, a Milano aprirà un pop-up store dedicato proprio a One Piece, quindi uno store temporaneo, un negozio temporaneo in cui potremo acquistare una marea di roba a tema One Piece. Ci è stato rivelato che l'anime di Kaiju Number 8 avrà un totale di soli 12 episodi, qualcuno si aspettava di più vista la popolarità dell'opera. Tra l'altro proprio ieri ho portato un video sul primo episodio e sembra interessi veramente a moltissime persone. E devo dire che nonostante le polemiche riguardo il modo in cui continua il manga, non ne so niente perché non lo sto leggendo, questo primo episodio è stato veramente figo. Nuova visual per celebrare l'anniversario dell'anime di Oshinoko. Ebbene sì, un anno fa andava in onda il primo episodio incredibile dalla durata di più di un'ora di Oshinoko. E vi ricordo che la seconda stagione arriverà a luglio. Nuova immagine promozionale per Code Geass Rose of the Recapture, questa nuova serie di Code Geass che non avrà come personaggio principale le Lush, quindi è un progetto a parte, poi magari potrebbe apparire, ma di sicuro non ha un ruolo importante. Arriverà a fine giugno su Disney Plus e avrà 12 episodi totali. Nuova visual per l'anime di Fairy Tail 100 Years' Quest, che vi ricordo arriverà a luglio. Ha annunciato il film originale KillTube, che sarà composto dall'unione di 108 esperimenti diversi. Sappiamo che uscirà nel 2026 e le immagini che avete visto vengono proprio da questo primo trailer e devo dire che da un punto di vista grafico sembra veramente una rivoluzione. Ci vuole ancora tanto, ma wow. Il nuovo anime romantico di questa stagione primaverile, ossia A Condition Called Love, è al centro di numerose polemiche dopo l'uscita dei primi episodi. Secondo molti, infatti, pare che quest'anime stia romanticizzando l'amore tossico fra due personaggi. Si parla di manipolazione e di controllo dell'altra persona. Insomma, temi piuttosto forti per un anime che di sicuro non è stato scritto con quegli intenti. Poi, ciò non cambia però, che potrebbe comunque non mandare un bel messaggio. Io personalmente devo ancora vederlo, quindi non so dirvi, ma da quanto ho capito il protagonista maschile pare sia molto strano. E che non lasci presagire benissimo. Vabbè che già dalla trama si capisce che c'è qualcosa che non va, però ditemi voi cosa ne pensate. E passiamo adesso a Manga News. Secondo Makoto Yukimura, l'autore di Villa in Saga, pare che il manga stia per giungere finalmente al termine. Dopo tanti anni, infatti, ha dichiarato che il capitolo finale non è lontano. Non ci dice quanti volumi mancano, quanti capitoli mancano, ma pare che fra non molto la storia terminerà. Il manga di Mario Academia sarà in pausa questa settimana, mentre il manga di Berserk riprenderà dalla pausa il 26 aprile. Rilasciato un trailer promozionale per Negai Noastro, nuova serie di Ken Wakui. Stiamo parlando dello stesso autore di Tokyo Revengers, che proprio quest'oggi ha dato il via a questa nuova serie. Sui delinquenti, quindi ci sono i teppisti, ci sono i poteri sovrannaturali, un po' come in Tokyo Revengers. Insomma, non sembra essere una nuova serie, quanto più uno spin-off di Tokyo Revengers. Vi faccio vedere anche la cover del nuovo Weekly Shonen Jump, in cui in copertina ci sono i personaggi principali di questa serie. Che anche di design somigliano tanto a quelli di Tokyo Revengers. Guardate, io sono molto curioso di dargli un'occhiata, visto che è appena uscito il primo capitolo. Probabilmente potrei dedicarci un video al riguardo, fatemi sapere se vi piacerebbe vederlo. Masashi Kishimoto, l'autore di Naruto, e Mikio Ikimoto, disegnatore di Boruto, saranno ospiti in Francia il 24 e il 25 agosto. Che dite? Un obietto per la Francia lo prendiamo, visto che in Italia raramente arrivano figure del genere, e quando poi arrivano alle fiere diventa impossibile incontrarli. Sempre a proposito di A Condition Called Love, sappiate che il manga sta per terminare. Secondo l'autore dovrebbero mancare tra i due e i tre volumi. E per concludere passiamo alle figure news. Per gli amanti come Medioshinoko, soprattutto di nostra moglie Akane, anche se Kana per me è meglio, sappiate che è in preordere questa nuova figure di Akane Kurokawa. Uscirà a dicembre del 2024 e costa 113 euro. Vi ricordo però che questa cifra purtroppo non è quella finale, ma bisogna aggiungergli i costi di importazione. Perché qui stiamo parlando dei prezzi originali e non di quelli che poi arrivano in Italia. E visto che ieri abbiamo celebrato l'inizio di Kajun Amber 8, stanno già uscendo le prime figure, o meglio le Nendroid dedicate a Kajun Amber 8. Abbiamo quella del protagonista al costo di 35 euro e anche quella del coprotagonista allo stesso prezzo. Entrambe arriveranno ad agosto di quest'anno. Detto questo ragazzi, spero che anche questo video news vi sia piaciuto. Ci vediamo domani con un nuovo video dedicato a un nuovo anime stagionale di cui non vi ho mai parlato, ma che promette veramente bene. Fatemi anche sapere qua sotto se vi piacerebbe vedere un video in cui parlo di questo nuovo manga dell'autore di Tokyo Revengers. Lasciate quindi un mi piace, seguite i vari social e ci vediamo alla prossima.